buongiorno a tutti e benvenuti su scudere oggi vi parlo di questo interessante appartamento sito nel pieno centro di sesti levante ed è un appartamento composto da ingresso un ampio soggiorno cucina abitabile tre camera diretto doppi servizi abbiamo anche due balconi due posti auto di cui uno coperto e in più una cantina che possiamo descrivere come magazzino ma la vedremo alla fine con delle fotografie stiamo visionando adesso il soggiorno come vedete l'appartamento è un appartamento al piano rialzato ma molto luminoso una bellissima bellissimo stabile lo stabile è stato rifatto nelle parti comuni e quindi non ci sono spese straordinarie in essere attualmente la faccio verso l'interno e verso il giardino condominiale con questo balcone molto grande vi ricordo che l'appartamento è a pochi passi dal caruggio e siamo circa a 400 metri dalle spiagge andiamo adesso a visionare la cucina abitabile vi ricordo che un appartamento composto da ingresso soggiorno cucina abitabile tre camere diretto doppi servizi ecco dimenticavo anche ripostiglio con due balconi due posti auto uno coperto e anche una cantina grossa quanto un magazzino continuiamo la nostra visione della del video ecco questo è l'altro balcone che espone della parte vedete anche qui è molto molto aperto siamo nelle vicinanze comunque della coppia e proseguiamo nella zona notte andiamo a vedere il primo bagno quello più piccolo è un bagno per lungo come si usava comunque ai tempi di queste costruzioni e qui abbiamo il secondo bagno più grande in condizioni originali ma come vedete anche dal video tenuto molto bene poi ovviamente ci sarebbero dei lavori da affrontare proseguiamo andiamo a vedere una delle camere da letto le camere sono tutte molto grandi anche questa espone verso il balcone interno zona molto tranquilla siamo vicini anche alla piscina al parco insomma una posizione sicuramente strategica anche perché ci permette di vivere il centro le spiagge ma senza quel caos normale quella festa normale che nel pieno centro del paese si viene a creare qui stiamo visionando la seconda camera da letto come vediamo sono tutte molto grandi abbiamo anche un ampio ripostiglio che per il signore è sempre molto importante anche se vi ricordo che abbiamo un magazzino come cantina che lo vedremo alla fine e questa invece qui abbiamo la terza camera da letto anche questa anche questa si espone sempre verso l'interno il nostro grande balcone e con questo abbiamo terminato vi farei vedere le foto ancora della cantina del nostro magazzino grosso e vi ringrazio di aver visto questo video con Scudo Re e alla prossima Scudo Re ti offre la tecnologia più avanzata nelle nostre mani cuore e cervello l'unica tecnologia che davvero ti aiuta a comprare e vendere casa con serenità